abbiamo iniziato ciao ciao vediamo che con la lina ciao 5 4 3 2 si la vedo e lei sta camminando su questa sembra tipo una passerella illuminata ok è tutta molto seducente nel senso come camminano molto sensuale e mentre cammina ci sono tutte le interferenze che arrivano velocissime e lei fa così le manda via tutte ok e lei o è un'altra vita ma è lei e ti dà l'autorizzazione sì va bene è interferita allora c'è sì c'è falconiforme come come posso dire lo vedo lì è quasi come se fosse in un angolo interferisce alina ma quasi come se per non perdere l'interferenza quasi non si volesse neanche far sentire perché sa che alina se si accorge dell'interferenza riesce a mandarla via quindi è come se fosse in un angolo e interferisce con alina per per mantenere il collegamento con le interferenze il collegamento con le interferenze lui agisce molto in sordina quindi con maniera molto subito la poi e c'è un'entità mentale di livello 1 adesso è uno a 1 direzzi oscilla ma non arriva mai a 2 basta sì in eterico vedo allora alina su questa specie di podio poi c'è qua dietro dietro le sue gambe questo falconiforme che sta un po così poi c'è una specie di filo che collega con i forme all'entità mentale di livello 1 che è qua alla destra di alina ok livello 1 raro trovarlo ed è come ovvio che sia molto bassa più e basso il numero più e bassa l'entità acqua qual è il compito della 1 cosa fa ecco crea un po di insicurezza in alina un po c'è ovviamente dal livello 1 quindi quasi impercettibile no quelle volte che lei è un po titubante sono l'entità mentale di livello 1 insieme al falconiforme agisce soprattutto quando sta prendendo una strada che loro non vogliono che prenda quindi magari poi alla fine magari lei riesce a prenderlo allo stesso ma all'inizio le vengono i dubbi è un po titubante se lei sta facendosi con la testa magari ci mette un attimo in più a a partire ecco allungano i tempi ecco vibrazione 32 miliardi consapevolezza 194 ps 43 vite 1208 cervello 2.6 9.6 sì ok è una sessione non è la prima di alina di controllo e chi ha poi un tema unico ma finiamo le eventuali interferenze interferenze allora i valori sono molto alti la vibrazione soprattutto da percentuali di consapevolezza e quasi 200 sommato poche vite una procedura di cervello alta quindi va bene le interferenze terri che sono presso che nulla un falco che si interferisce ma un po in sordina un po ai margini differenza metale livello 1 ok non è un problema per cui diciamo che è pulita ballina se chiediamo le se di farci una d'eterno di mettercelo qui davanti se allora fa tipo la forma tipo è una mela fa tipo forma di mela con il gambetto che diciamo il distributore di vibrazioni nel senso che da quel piccolo gambetto lì poi si diffonde tutta l'energia della tela d'eterno intorno quindi lo sa fare fatto uno in sogno ha incontrato in questo sogno una persona e per verificare che fosse veramente una persona non un'interferenza gli ha messo in mano una d'eterno solitamente lei dice fa tanti sogni adesso li ricorda se è un'entità si sgretola se una persona no e questo non si è sgretolato è successo questo dalla tua visione sì allora nel sogno vedo un po come se avesse ci si vede un pochino di diffidenza allora vedo che è un uomo un uomo che nel sogno è molto affascinante con le caratteristiche che per lei sarebbero l'ideale come fiamma ma lei agliato in mano la d'eterno per verificare se non fosse un interferenza perché ci vedo un po di diffidenza quindi un po di nella vita reale è un po diffidente su questa cosa no quindi quando lei dice riesco solo da solo perché voglio la persona giusta non scendere a compromessi ma lo vedo un po estremo certo con questo sogno vedo che lei è come se come come posso dire come se siccome non c'è la persona perfetta sto da sola no quindi quasi come se non volesse buttarsi nell'esperienza ecco mi viene così c'è significato del sogno questo secondo sogno ha prenotato con noi e vede degli ostacoli a questo giorno a questa giornata sì come se invece lì la sua ps avesse quasi diciamo compresso ecco compresso gli ostacoli possibili ostacoli che ci sarebbero potuti essere da lì fino ad oggi per la sua sessione come se gliele ha compressi tutti in sogno in maniera tale che se doveva quasi una consapevolezza che va oltre no lei come quasi come se la ps avesse cambiato idea nel senso che l'idea era di mettersi degli ostacoli prima di arrivare alla sessione e poi è come se l'ultimo avesse cambiato idea quindi li ha comunque creati ma in un unico sogno dove alina li ha superati tutti ha proprio compresso nel sogno tutta questa presso alcuni avvenimenti nella vita reale singolari sempre credo successivi alla prenotazione l'acqua e le api entrano diversi api in casa se quella è stata una tentativa di interferenza cercare di creare la paura con la paura abbassare le vibrazioni e interferirla un'intimidazione se il vicino con cui lei non ha rapporti le voleva regalare dell'acqua è insistito 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 tanto da generare una reazione piuttosto brusca in alina che è una persona totalmente pacifica acqua abbastanza spiegabile capirei no ma infatti perché qualcuno te la portate vuoi condividere questo vino che ne so ma l'acqua si vedo quasi come un tramite per un altro tipo di energia a sua insaputa e lui è proprio come se fosse stato spinto da qualcos'altro a portare quella quale con quale fine ma per chi dire che è più quasi un gancio come se fosse un tramite per un gancio di interferenza l'invadenza l'invadenza del suo spazio e che avrebbe fatto sì che la se levesse ceduto a questa cosa l'esistenza del vicino con quest'acqua se levesse trovera mist acqua avrebbe aperto un barco per le interferenze con un gancio di invadenza vedo poi quindi come se da lì adesso non lo so ma come se in passato lei si faceva diciamo invadere dal dalle esigenze degli altri e se ne prendeva carico e questa cosa avrebbe ricominciato sarebbe ricominciato sì se ci pensi bene è una sciocchezza no questo problema dell'acqua io pur di farlo smettere la prendo ecco e poi la butto nel lavandino sa che no però simbolicamente a quel punto il vicino al di là delle interferenze di quello che può costituire e vice dice lei è vulnerabile lei fa la mia vicina fa quello che io le dico oggi l'acqua domani le dico sposta la macchina perché lì la metto io dopo domani e mi paghi la luce perché io voglio che sia così se no io ti tiro con la macchina quindi sembra una stupidaggine sembra una sciocchezza ma anche a livello mentale il vicino può aver fatto un test no poi cos'era quest'acqua francamente non so magari ne è compatta tante non voleva sprecarla però a livello mentale e psicologico poteva essere una prova un test di a tante chiavi di lettura sembrano sciocchezze ma non lo sono bene io ci giuro intorno perché il clou è ma vorrei prima chiamare aprendo totale aureo tutti i parenti di tutte le generazioni di alina che non abbiamo fatto vero prima che all'epoca di monica non sono tanti ti sono 168 ok facciamo gioco questo ritorni tanto lo facciamo questi 168 si fermano non entrano e chiamano quelli che chiameremmo se dovessimo fare un futuro un ennesima sessione ad alina che non faremo i ritardatari quelli in ritardo altre di 32 ecco vedi ancora 16 ancora 3 219 ci fermiamo 11 ne arrivano altro 220 la corrente ma con fino a quale generazione sono arrivati quarta ok tutti nel portale aurea la compagna del padre con microfono per lasciare un messaggio tuo padre vivono alina al padre e sì allora la petto come se fosse arrivata di corsa in ritardo perché era appena uscita dal centro di bellezza sì tutto molto così impostata e dice al padre dice si è stato il mio grande amore ma quanta tip quanta tribulazione quanta fatica no vick a lei no no cosa fa vede la sua esperienza e mi fa vedere che dove a finire qua la sua vita perché era già stata troppo satura si era già accumulata troppa roba satura in che senso è satura che carica di esperienze pesanti era quasi come se si fosse dato un limite la ps in questa vita e avesse già raggiunto il limite cosa vuole dire al padre di alina e se vuole anche ad alina ma al padre che gli dice sganciati da me che viene pensieri ma sganciati grandi sì con la testa e di aline tutta la sessione non gli dico neanche più e ad alina la vuole ringraziare tanto per questa opportunità alle da un grosso abbraccio aveva tanto affermare per lei dice una grossa opportunità questo per un disincarnato grossa 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 va bene la salutiamo magari per una volta segui la vediamo dove vanno dentro il portale aureo nel portale aureo elena c'è no no ci sono come potrei chiamarlo come se fossero delle gocce si potrebbero visualizzare come delle gocce e in ogni goccia certo ci sono tutte le le esperienze delle vite delle varie ps ok quindi c'è come un un rewind cioè puoi vedere tutto il tutto fin della vita ma non la sequenza della vita di quello che che si fa diciamo dell'informazione no quindi poi diventa un cumulo di informazioni delle varie vite ok e in base a quello poi è come se posso spiegarlo a difficile vedo questo come se ci fosse questa enorme goccia no per esempio la la compagna del papà di alina ecco che ho seguito lei ad avanti la sua enorme goccia delle informazioni delle varie vite e in base a questa goccia in base alle informazioni ci sono delle possibili vibrazioni ecco potrei dire così che lei può seguire per poi scegliere la prossima vita il tempo proprio non è tempo ne spazio non c'è ok la salutiamo chiudiamo il portale aureo e a proposito di vite chiamiamo le 1208 vite di alina lei su un palco alto che le guarda se lei fosse la rock star e tutte queste vite sono il pubblico come questa visione a 1208 personaggi in cerca d'autore sì l'immagine è come se lei fosse si direi su quel podio che è rimasta su quel podio che c'era l'inizio indominato ok un po sollevato ed è come se fosse la stadio un concerto quindi davanti come se fosse in un parco aperto ok e ci sono tutte le persone davanti tutte le sue vite più donna o più uomo più donna più ricca o più povera c'è una media verso il ricco più bella o più brutta più bello o più brutto qua direi che spazia tantissimo ci sono delle vite anche che è stata anche con meno mazioni e da una parte del viso poi a una mano in un'altra ha fatto più del bene ha fatto più del male anche a se stessa c'è una percina vasta percentuale di dove ha subito violenze anche diciamo psicologiche che ha subito tanto si è trovato anche in tante vite a dover vivere di allora me ne viene un si distenti una la vedo che era orfana è stata orfana una uno schiavo una soli vabbè stata prigioniera per tantissimi anni gianni ero se vogliamo dare un farlo un riassunto se identichi per queste vite come le definiresti proficue varie monotone proficue non proficue diremo molto varie e molto proficue perché vedo tante esperienze forti intense quindi non l'esperienza superficiale ma vissuta proprio intera fino al profondo ecco proprio ogni vita quasi ogni vita qualcuna ha proprio un'esperienza fondante molto profonda che la caratterizza è tutto questo lo dobbiamo la ps che si chiama fratteria però me la mette tipo in un come se fosse sei quelle sfere che scuoti e scende tipo la neve no però di verde c'è dentro un immenso prato con è tutto prato e ci sono solo due alberi in mezzo una vite un altro albero fratteria e la pia raggera e mi fa vedere come se fosse un cerchietto con delle punte viola blu che come se fossero dei recettori per l'esterno di solito chiedo il progetto di questa vita invece adesso chiederei a prateria il progetto di tutte le sue vite lei è venuta qua per fare tante vite insieme no che hanno anche un numero non finito potrebbero essere 208 così come potrebbero essere di più o di meno con quale intento globale mi dice vibration waving quindi l'innovazione di vibrazione è come se in generale sta sperimentando e ha sperimentato le varie nuance della vibrazione delle varie vibrazioni negative positive le differenze i delta ecco mi fa vedere proprio tutta questa cosa colori diversi delle vibrazioni se il 1208 della platea adesso tutti i 1208 costruiscono nelle proprie mani una d'eterno vediamo che succede più alina senza lo scopo senza doverlo mettere da qualche parte allora solo per questo il momento questa vibration waving si uniforma e esattamente tutte queste onde di vibrazione si sono unificate in una media che è la vibrazione ideale per la ps frateria ed è una sensazione c'è quasi c'è libro tutto anch'io perché talmente perfetta per alina che per la per prateria e ciò per la ps più che per la linea che forma una una rete perfetta di vibrazioni e si sente proprio la vibrazione particolare quindi questa onda si equipara se nella sorgente è così l'onda è alta frequenza costante nella sorgente sia altissima frequenza costante uniforme ok resta un'unica questione un'unica domanda la fiamma il motivo per cui lina fa questa sessione è di fatto ha ragione non c'era un interferenza se non bricio un entità livello 1 si può togliere da un giorno con l'intento con la consapevolezza che lei diceva di sì con la testa quindi lei lo sapeva caratteristiche dell'antità numero uno che erano ricordami un attimo assi che quando inizia una strada nuova e vengono due dubbi in croce due poche cose farò bene ma si deve ad avanti ecco quella zona lì che già non incide nulla uno si accorge da solo che soprattutto una come alina che vede tutte le nostre sessioni la fiamma la vita sentimentale di alina è un po scarsa conosce delle persone ma non vuole scendere a compromessi quindi non vuole perdere tempo con uomini che sa benissimo già di partenza non lo sono può essere una tattica buona può essere anche una tattica incontro producente perché la fiamma a volte si costruisce si fatti è quasi come se lei diciamo la ps alina cioè come se alina facesse in modo di conoscere uomini finora è che sono molto più sono molto lontani dalla sua dal suo ideale di partner noi siamo in maniera tale che è molto semplice per lei dire no adesso sarebbe essenziale che lei iniziassi a creare incontri con uomini che iniziano avvicinarsi alla fiamma per crearla perché l'ideale difficilmente si concretizzerà in una fiamma c'è troppo molto teorico molto ideale e quindi deve fare troppo deve iniziare incontrare per uomini che vanno verso l'ideale e sperimentare cioè l'ideale fattibile fattibile esatto quindi la maggior parte delle caratteristiche con cui le caratteristiche dell'uomo che a lei piacciono ok quindi la maggior parte così anche se ha qualcosa che non va sarà quel qualcosa su cui lei poi potrà costruire pian piano la fiamma non deve essere con quell'uomo lì ma diciamo lo crea la crea puntualizzando sempre di più le caratteristiche e quindi proprio lasciarsi andare al passaggio verso la fiamma ecco in eterico come se vedessi gli incontri che ha fatto negli ultimi anni qua e come uomini c'è ti vedo come se fossero in una fascia bassa un po sul grigio scuro ok la sua fiamma ideale altissima ma quasi trasparente fino là in alto inesistente e tutta questa fascia in mezzo che è utile vivere quindi bianco un bianco panna che è molto utile vivere che è concreto che porta poi alla fiamma vuota quella di esperienza sì quindi facciamo un esempio lei non lei desidera un uomo alto però la sua fiamma ideale è alta 2 metri 10 è chiaro che ci sono pochi uomini alti esalti 10 quindi incontra buoni alti un metro e mezzo esatto che a priori non va bene esattamente un po diciamo si deprime quindi poi vuole uomini milionari un uomo che sia abbia un lavoro e abbia un'autonomia economica e quindi incontro povera ci è questo il concetto esatto ma quindi esiste già o ci sono delle grezze ci sono delle grezze ci sono delle grezze che sono potrei dire la rappresentazione ognuna delle caratteristiche fondamentali che le vuole nella fiamma sono 656 sono 5 6 la più vicina allora finora erano molto lontane mentre noi parliamo e descrivo quello che vedo vedo anche che alina consapevolizza molto velocemente e quindi sta facendo suo quello che io sto dicendo e vedo che si abbassano a questa diciamo passo io posso dire con queste nuvolette che sono le fiamme lo vedo abbassarsi no diciamo la più vicina non è nel suo paese ma mi viene una mi viene potrebbe essere ma viene polonia auguri per imparare la lingua non so provato ma ok ma la fiamma potrebbe anche non essere una di queste sei grezze esatto questo va sottolineato al momento sono queste sei grezze perché ognuna una caratteristica ma noi cerchiamo le sei caratteristiche esatto se non cerchiamo lei deve creare le sei caratteristiche si è contro quindi che quella più vicina è in polonia non ce ne frega assolutamente niente no ok come vedi prateria ps interessata a questo questa fase questo è negli intenti di di prateria nell'essere scesa se la ultima fase direi che ha fatto sì che alina arrivasse qua oggi proprio per questo è uno strumento che sa che alina apprezzò molto quindi gliela proposto aperto bene cosa ci vuole dire a proposito prateria la ps con indicazioni uguali darci ci lasciati andare e sperimenta e tra i che non sarà come una volta lo vedrai e tra i proprio che vivi come proprio per sperimentare e per vedrai l'uomo proprio come l'incarnarsi delle varie caratteristiche e anche se non è la figura giusta subito lo sentirai proprio che pian piano si sta creando la tua fiamma quindi è probabile che tu se ti lascia andare avrai magari storie più brevi ma sono molto costruttive funzionali per arrivare alla fiamma quindi non è un perdere un pezzo di ps avere una storia magari avere dei rapporti intimi non ero consuetto intimo è un pezzo di ps che se ne va se riguardatevi entità mentale un po tutti perché poi fate due più due da soli che io non vi faccio la poppa pronta va bene oggi fa pencare ogni coricino è sempre grazie elena va bene ne facciamo le sessioni sui servizi segreti ma va bene che va la già incontrato la già incontrata una fiamma nelle vite precedenti allora come dici così alzano la mano cioè tutti i 1208 alza la mano la rappresentazione di fratterie in quella vita lì e l'ha incontrata tre volte in quella vita no no in oltre vite diverse personaggi ali voglio vedere questi personaggi le tre alina su 1208 quindi un 1 per cento direi sì che hanno incontrato la fiamma chi sono come l'hanno incontrata e come è andata sicuramente non fino in fondo perché la salina eccola qui prima se c'è questa donna che molto sofferente con i capelli lunghi bagnati quasi come se c'è rimasta sotto la pioggia è morta si la vedo anche nuda sofferente tutta bagnata sporca dalla pioggia dal fango quindi morta così allora sa che la fiamma perché poco tempo prima qualche giorno prima di morire ha conosciuto questo uomo era nel mercato del suo paese direi 1300 più o meno quell'epoca lì e c'è stato proprio un incrocio di sguardi allora lui veniva lei aveva il banco tipo stoffe cose così filati ecco è arrivato con il cavallo e hanno lui ha chiesto delle stoffe dei filati mentre parlavano sono guardati negli occhi e c'è stato proprio uno scambio c'era chiaro entrava sono entrati uno negli occhi dell'altro lui ha acquistato delle cose si sarebbero visti una volta dopo al mercato dopo quindi circa un mese mi dice ma lei è morta in quelle condizioni di seconda vita seconda vita era un uomo a linea rom si alene era un uomo ed era uno dei cavallerizi si chiamano del palio di siena i fantini sì ecco infantina si scusa la persona che cavalca il cavallo sì 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 e deve essere morta in seguito all'incidente col cavallo non durante il palio ma la fiamma era una donna sì si sono incontrati era un amore dire clandestina tra virgolette perché lei era la figlia del direttore potrei dire della squadra di un'altra contrada ok fermiamoci un attimo la ps fiamma della prima vita ben analizzata della seconda è la stessa sì terza vita sì senza sforzarti troppo no no solo se lei era donna uomo la fiamma era donna uomo se la donna tutte erettorosessuali queste coppie si con la fiamma si ha avuto altre storie ma non c'è un uomo si suoni ma non della fiamma se lui era un uomo d'affari si potrebbe dire fino a 8 1800 così la vita scorsa potrei dire se la vita scorsa poi ripeto in questo potrei dire un ultimo hotel e si sono incontrati lì e la stessa ps sì ma quindi è la stessa ps si incontrerà la stessa ps quindi qui c'è tanto il libero arbitrio perché noi diciamo che la l'anima fiamma la femma gemella la si crea ma di fatto è quella lì si è come se si è come capire il meccanismo perché se lei c'è 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 anche la fiamma no è come se sì e se diventasse quella mi viene da dire nel senso man mano che sei qua e vivi o che la fiamma si consapevolizza e è come se prendesse le stesse sembianze della fiamma della stessa fiamma te l'ho voluto far dire da sola ma hai detto esattamente quella cosa che onora al merito monica mi ha suggerito praticamente hai detto tu non si dice si dice che siamo la stessa anima divisa in due pare che non sia vero dalle nostre ricerche visioni noi siamo come spesso si dice poi si dimentica quando ci fa comodo tutti uno se facciamo uno per venire a fare esperienza e per forza di cose dobbiamo diventare un uno frammentato altrimenti vorremmo un'esperienza veniamo qua facciamo noi spessiamo tutto uno e siamo uno facciamo l'esperienza da soli e poi andiamo dietro l'ambiente abbiamo detto no vediamo qua tutti spezzettati in qualche modo partiamo tutti nello stesso perché siamo tutti uguali partiamo tutti con lo stesso bagaglio più o meno poi c'è chi fa delle esperienze chi delle altre allora monica mi diceva facciamo finto perché un'immagine che non so trovarne un'altra siamo tutti dei cioccolatini quando veniamo qua ci mettiamo una carta addosso questa carta ha dei disegni dei colori diversi a seconda delle esperienze che facciamo quando due cioccolatini con una carta simile per caso che hanno fatto delle esperienze simili e quindi i disegni immaginate degli rigori su questa carta del cioccolatino che però dentro è uguale a tutti gli altri ecco perché cioccolatino la palla è la stessa ma all'esterno cioè l'involucro delle interferi delle esperienze non dentro anche dell'esperienza l'interferenza è simile c'è un match con un altro cioccolatino che ha fatto delle esperienze simili quindi è una ma non è una sola questo spiegherebbe le fiamme grezze che in qualche modo hanno un background di esperienze che si avvicina spiega la somiglianza delle fiamme non perché sono la metà della stessa mela ma perché hanno fatto in tutte le vite ovviamente una serie delle esperienze simili ecco perché le fiamme spesso parlano uno sull'altro si assomiglia anche esteticamente tipo amici si assomiglia alla sua fidanzata assomiglia assomigliano hanno un modo anche quasi il cognome c'è anche quasi il cognome quindi è interessante forse non è neanche così sensato fissarsi sul fatto che le tre fiamme incontrate da lina nel passato erano le stesse può essere semplicemente che questa assonanza di esperienze fosse talmente forte vita per bovita che che per forza quello che è arrivato primo era sempre lo stesso no la stessa ps ma questo non vuol dire che valga anche per questa no fa quindi apri i giochi lina non sta cercando uno di 9 miliardi che siamo 9 miliardi perché insomma familiari non sta cercando uno che è sconfortante perché tu dici è devo avere una fortuna che non finisce più no lei sta cercando l'analoga ps la ps che analogamente a lei ha fatto le stesse esperienze e la può trovare così perché tutto dipende dal suo intento si vedo che c'è vibra ha una certa caratteristica di vibrazione poi le stesse caratteristiche di esperienza non significa una vita poi di noi anzi le fiamme no capiscono che sono che sono su un gradino più alto e iniziano delle esperienze delle sfide che probabilmente sono anche totalmente nuove perché sono un livello talmente alto che che no che le le rapisce se rapisce entrambi è una vita ad alta frequenza di ad alto impegno ad alto impegno se decisamente tutto questo fiume di parole che effetti fa sulla ps prateria allora la differenza da prima che prima appunto era prateria ma era chiusa nella sua sfera bolla potrei dire adesso prateria manda i ciuffi di derba in giro per essere colti presi visti ok senza cluster e senza ancora e senza l'avatar quanto è la frequenza 197 miliardi ma bene allora andiamo al cluster e andiamo all'avatar con due saltini uno nel cluster e uno nell'avatar deve essere velocissimo a mettervi a tutti i contratti se ci sono nel cluster qualcosa deve esserci se sì sì quando poco sì c'è più un pochino fatemi dire 30 40 una d'eterno un qua anzi 1208 109 ad eterno un qua uno per ogni personaggio più allina hanno riempito il cluster prima arrivano separati pressioni scone una cosa avatar c'era qualcosa c'è solo una riga un accenno di rica è un avatar e una d'eterno anche qua se nuova frequenza adesso 345 beh beh consapevolezza 217 ps 63 vite 946 cervello 10.2 il progetto esiste ancora il falco e l'entità 1 esistono ancora no c'erano impianti ci sono ancora no non c'erano non ce ne sono messaggio finale di alina se stessa e alla presunta no alla futura fiamma a se stessa dice non hai più scuse ora concentrati e centrati sul tuo obiettivo fiamma puoi creare e sarà un'esperienza molto avvolgente che ti prende che ti assorbe che a 360 gradi e viene proprio da dire no totalizzante totalizzante alla futura fiamma la futura fiamma si è pronto e lì pronto con la mano dalla mano a natalina i novecento e qualche cosa personaggi come vedi la platea quelli che sono scomparsi cosa c'è al posto loro ma niente si sono avvicinati si sono avvicinati ad alina dove c'erano gli spazi vuoti si sono avvicinati novecento e 146 36 va bene le 100 quelle che sono tutti insieme un nuovo ad eterno non ce l'ha piaciuto direi che tutto se porta a tornare